Siamo con Marco dei Barra ai Portici e chiaramente una delle contromisure per il coronavirus è la chiusura anticipata dei locali dei Barra alle 18. Marco, cosa pensi appunto di questa ordinanza? Semplicemente che non concordo, nel senso che non trovo un giusto nesso nel chiudere alle 18 invece delle 19 e delle 20, ecco, non riesco a capire che differenza possa fare. Soprattutto anche in certi locali pubblici, Barra, dove la loro apertura è proprio alle 18 quindi si ritrovano a non dover aprire e quindi a non poter lavorare. Giusto avere delle soluzioni, giusto fare qualcosa, ma questa non credo che sia la soluzione consola al problema.